Stai cercando un elettricista? Un avvocato? Un medico del lavoro? O un professionista sul tuo territorio? Hai paura di non trovarti bene? Di rimanere fregato? O di perdere tempo? Fidati di noi! È un database di professionisti selezionati e utilizzati con successo da gente come te. Tramite il sito o l'app dedicata, in meno di un minuto avrai il nominativo dei professionisti che stai cercando nella tua zona, il loro contatto diretto, le recensioni verificate e rilasciate dagli utenti e gli sconti dedicati. Confidati di noi! Trovare il tuo professionista ideale è semplice, conveniente, a portata di clic. www.fidatidinoi.it oppure chiamaci tramite il numero verde 800 587 965. 587 965.